Intanto Vania Colasanti ha scritto un libro, Valentina Berengo l'ho a letto, sentiamo Confronto. Attraverso questo libro ho cercato di prendere per mano il lettore e attraverso un linguaggio anche narrativo, accessibile a tutti, di portare il lettore con me all'inseguimento di Caravaggio. Quindi ho ripercorso un po' tutti i suoi luoghi, quindi ci sta Roma con la casa dove è vissuto Caravaggio, ci sta Napoli dove lui poi è costretto a fuggire dopo l'omicidio di Ranuccio Tommassoni, ci sta Malta, la Sicilia e ovviamente Porto Ercole dove poi si chiuderà la sua vita in fuga. E ho cercato anche di far scendere i personaggi dai suoi quadri, come nel caso della copertina, in cui la Madonna di Loreto l'ho riportata esattamente in vicolo del Divino Amore, al Civico 22, dove c'era appunto lo stipite che si ritrova esattamente nel quadro. E quindi questa Madonna, che poi in realtà era la donna di Caravaggio, Lena, l'ho fatto un po' riappoggiare proprio sul lato dello stipite di marmo dove lui l'ha pensata, infatti coincide perfettamente. E lo stesso l'ho fatto anche in altri dipinti, come per esempio nelle Sette Opere di Misericordia. si può benissimo vedere che è la scenografia, praticamente la scenografia è la locanda, l'esterno della locanda del Cerriglio a Napoli, in vicolo del Cerriglio, dove appunto poi drammaticamente nel suo secondo soggiorno napoletano Caravaggio verrà sfregiato. Quindi ecco è un inseguimento di Caravaggio nei suoi luoghi e nei suoi quadri, proprio per cercare di restituire al lettore quello che era lo sguardo di Caravaggio, attraverso un linguaggio che sia accessibile a tutti, ma anche sempre basandomi su quelli che erano i documenti e quindi la realtà dei fatti. In questo suo saggio, Vagna Colasanti riesce a raccontare l'interiorità di Caravaggio come se fosse un romanzo. Ci porta attraverso i suoi luoghi, ma anche attraverso le sue opere, facendo uscire i personaggi direttamente dalla tela e facendoci conoscere l'uomo Caravaggio, che ha vissuto, che ha camminato, che ha desiderato, che ha avuto passioni, delusioni. Ecco tutto questo attraverso un mosaico di luoghi che messi insieme ricostruiscono una vita in cui possiamo anche ritrovare una parte di noi.